All'inizio di aprile il regime di Assad ha approvato quella chiamata legge numero 10 del 2018. Secondo queste nuove disposizioni, i siriani sono chiamati a registrare le loro proprietà private presso il ministero dell'amministrazione locale entro 30 giorni. Tutte le persone titolari di beni devono fornire la prova tramite documenti dei possedimenti anche attraverso un parente. Se non verrà presentato alcun certificato di proprietà, i beni diventano dello Stato e le proprietà entrano nel piano di riorganizzazione urbana del governo. Questa legge, per la creazione di zone di riqualificazione, sta sollevando preoccupazioni anche in Europa, Germania in primis, dove circa 800.000 rifugiati siriani chiedono garanzie. Sappiamo certamente di casi. Abbiamo casi individuali e numerose richieste di informazioni presso il nostro ufficio. La gente ci chiede cosa significa, come dobbiamo affrontare questo. È molto difficile stimare quanti siriani potrebbero essere colpiti dal decreto. Nello specifico, l'articolo 2 della legge cita che un organismo di regolamentazione è appositamente previsto per la stesura di un elenco ufficiale di tutti i proprietari di immobili. Ma è pur vero che per chi è fuggito da una guerra tuttora in corso, fare un passo indietro non è facile. Dal 2011 ad oggi la popolazione sfollata all'interno della Siria è arrivata a oltre 6,5 milioni di persone e circa il 33% delle abitazioni all'interno del paese sono state distrutte completamente. Grazie. 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 Grazie.